Come state un saluto a tutti ben ritrovati, invito come sempre a commentare numerosi, lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella, numerosissimi mi raccomando. Aggiornamento per quanto riguarda il mercato Milan, non news su Zirze, oggi Castro dice, lo sento spesso, non ha l'accordo con il Milan, beh questo ormai non ha chiuso con il Milan, questo lo sappiamo, vediamo quali sono le evoluzioni, però attenzione perché nel frattempo qualcosa attorno sta accadendo, o meglio qualche rumor, qualche spiffero arriva. Ebram è un nome del quale abbiamo parlato un mesetto fa su Milanello, ma non sarebbe il nome dal titolare, cioè sarebbe il secondo giocatore, più Jovic come alternativa al titolare, ci fosse l'opportunità a condizioni favorevoli. In tutto questo, attenzione, perché un po' a sorpresa il Milan, secondo alcuni spifferi, rimette in discussione il futuro di Noah Okafor, arrivato un anno fa, che quest'anno ha fatto secondo me bene, il rapporto minuti-gole è stato il migliore, che arriva da un europeo fin qui fatto con zero minuti in tre partite della Svizzera, che passa e che potremmo forse affrontare se stasera passiamo come secondi, sabato all'ore 18, quindi potrebbe essere un futuro da definire. Quindi magari un'operazione che in uscita può finanziare magari il colpo Ebram, che la Roma non ritiene funzionale rispetto al gioco di De Rossi e vorrebbe cedere. Sul resto vediamo che cosa succede, per quanto riguarda Dovbic costa 40, l'abbiamo detto, secondo me gli entusiasmi del Milan si sono un po' raffreddati, e per quanto riguarda gli altri nomi non mi sembra che ci siano dei particolari movimenti. Quindi attenzione che il piano potrebbe essere Zirze e Ebram Jovic, con magari l'uscita di Okafor. Di temi che ne pensate, se siete favorevoli o per no, che cosa fareste con Okafor? Mi stupirei dovesse andare via però nell'ultima ora alcuni spifferi in questo senso. Commentate numerosi, lasciate un bel like, iscrivetevi qui, attivate la campanella. Grazie, ci vediamo più tardi per altri aggiornamenti, un buon lunedì, una buona settimana e per stasera Forza Italia. Ciao a tutti, a dopo. Iscrivetevi, mi raccomando, ci tengo.